Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere il mio profilo di IdeaMaker dell'AlphaWay su 30, quindi è ovviamente anche pro. Non è, dico questo profilo, non l'ho creato a caso, ma l'ho creato ovviamente dopo molti, molti test, più di 20 ore di stampa e quindi posso dirvi le impostazioni del profilo che hanno dato i risultati migliori e anche un video per introdurre IdeaMaker all'interno delle nostre playlist per poterne parlare in futuro. Allora, prima di tutto su IdeaMaker, essendo un programma nuovo, forse non tutti lo conoscono, va su questo pulsante Play e ci ritroviamo davanti il profilo dell'AlphaWay su 30 PLA. Come vedete ho creato diversi profili, una per le litofanie, una per i pezzi che devono essere veramente rigidi, quindi sono tutti i perimetri all'interno di questo profilo, poi un altro profilo per la calibrazione del Finwall Cube e un altro invece di stampe generali, quindi le stampe è praticamente il profilo che uso sempre. Se andiamo nelle impostazioni, iniziamo dalla tab Layer a vedere come l'ho impostato. Prima di tutto ci si presenta il parametro Altezza Layer che ho impostato a 0.2 mm. Allora io vi consiglio sempre di usare parametri che siano, per esempio, non 0.15 perché altrimenti quando andiamo sulla nostra stampante 3D a vedere l'altezza a cui è arrivato l'estrusore probabilmente se è a 0.15 ci dirà che invece è a 0.2 anche se non è così. Pareti uguale a 3 perché diciamo è un po' lo standard. Altezza del primo layer molte volte si fa un po' più grande per depositare più materiale, per far anche attaccare meglio, ma io comunque l'ho settata sempre a 0.2 perché con il piatto che ci viene dato in dotazione nell'Alpha WESU30 e l'Alpha WESU30 Pro non c'è alcun problema di distaccamento dell'oggetto dal piano in quanto molto aderente. Nella tab estrusore, noi parliamo della stampante ovviamente senza modifiche, sono andato a impostare un'ampiezza dell'estrusore di 0.45, non 0.4 perché sapete meglio di me che se vado a impostare un'ampiezza dell'estrusore di 0.05 mm in più la stampante depositerà una striscia tra virgolette più larga e quindi ci sarà una migliore, ma molto migliore, adesione dei layer. Questa è una cosa che dipende abbastanza dalla stampante e i migliori valori che ho trovato per la mia Alpha WESU30 Pro sono la velocità di retrazione di 50 mm al secondo quindi una velocità all'incirca media che usano più o meno tutti anche semplicemente nella fase di stampa quanti mm deve succhiare l'estrusore per appunto non formare i filetti 5.5 mm mi è sembrato un valore prima avevo messo 2 mm ma con 5.5 sono spariti tutti quei fastidiosi filetti che si vedevano per il resto questi valori li ho lasciati di default se non sbaglio riempimento vabbè ovviamente dipende dal vostro pezzo io uso sempre un 15% perché secondo me è il miglior abbinamento per dei pezzi che devono sia essere trasportati qui e lì sia che debbano essere funzionale per esempio questa scatoletta che vedete l'ho fatto con riempimento al 15% e è molto solida nonostante sia stata progettata proprio per portarsela a presso e un power bank per portarsela nella borsa, nello zaino e in tutti i tipi di situazioni per quanto riguarda il supporto la percentuale di riempimento del supporto l'ho impostata al 25% perché se l'ho imposto con un valore maggiore al 25% ci saranno troppi troppi pillar che saranno molto difficili da rimuovere poi non ho notato a di sopra del 25% una differenza sostanziale nell'omogeneità degli strati che vengono creati tramite ovviamente il bridging tra un tower e l'altra per quanto riguarda il controllo della ventola che è la ventola ovviamente che raffredda il pezzo non c'era bisogno di specificarlo come in quasi tutti i profili di stampa di tutte le stampante il primo layer si fa tra virgolette a caldo per farlo appiccicare meglio al piano e già dal secondo l'ho sparata al 100% in modo tale che sia il primo poi successivamente il secondo layer si raffreddano in modo ottimale le temperature per quanto riguarda le temperature questo ovviamente dipende dal vostro filamento però io mi trovo bene con 60 gradi sul piano riscaldato che si hanno solo dal secondo layer in poi e dal venticinquesimo layer in poi viene totalmente spento il riscaldamento del piatto questo perché? perché il riscaldamento stesso del piatto può avere un effetto di omogenizzare i primi 25 layer perché appunto 25x0.2 fa 5 mm e quindi per i primi 5 mm si sente calore e questo aiuta a omogenizzare i layer nei primi 5 mm ma dopo è assolutamente inutile perché tanto il PLA si è già attaccato al piatto l'estrusore primario ovviamente qui configurazione standard il primo layer 212 gradi il secondo layer 205 gradi questo giustamente dipende ovviamente dal vostro materiale ma è sempre meglio dare qualche grado in più all'estrusore quando fa il primo layer questo invece è un valore che dipende solo ed esclusivamente dalla stampante e i valori per la nostra Alfa Y su 30 che arriva ricordo fino a 120 mm al secondo ovviamente dopo la fase di accelerazione sono la velocità di stampa predefinita è 90 mm al secondo che sarebbe il 75% di 120 mm al secondo che è il massimo a cui non consiglio di andare perché per l'appunto è un valore massimo quindi è il limite della schifezza che può fare la nostra stampante ovviamente la possiamo portare a velocità anche più elevate di 120 mm al secondo non c'è un blocco nel firmware ma non conviene perché poi la stampa viene fa schifo sia la parete interna sia la parete esterna l'ho fatta di 45 mm al secondo ovvero la metà della velocità predefinita perché ritengo importante allo stesso modo sia la parete esterna ovvero quella che vediamo sia la parete interna perché la parete interna se viene fatta a una velocità troppo elevata e quindi viene fatta comunque in maniera peggiore rispetto ad altre parti comunque la parete interna è fondamentale per tutta la struttura del pezzo quindi perché metterla a una velocità più elevata la velocità del primo layer l'ho messa a 30 mm al secondo in modo tale che ha più tempo per depositarsi sul piano per proprio tra virgolette sciogliersi sul piano per aderire ancora meglio per quanto riguarda lo spostamento l'ho sparata a 100 mm al secondo perché per l'appunto lo spostamento non deve sputare niente l'estrusore stessa cosa per i supporti 120 mm al secondo non è che se io devo fare un tratto di un millimetro lo fa a 100 mm al secondo lo farà a una velocità molto molto inferiore perché per l'appunto è impossibile che riesca ad accelerare fino a 100 mm al secondo in per esempio 2 mm e mezzo di tratto per il resto c'è il flow rate che in realtà è un valore che si imposta nel profilo dell'estrusore primario e l'ho impostata a 95% perché con il 100% per il mio filamento perché appunto è un'impostazione del filamento però io ve lo dico perché può essere sempre utile con il 100% appunto strabordava si vedevano proprio delle bolle che uscivano dai pezzi allora a 95% con solo il 5% in meno ho trovato un notevole miglioramento per il resto come end gcode e start gcode non ho aggiunto e levato niente perché idea maker secondo me ha fatto un lavoro molto migliore di quello di ultimaker cura cioè il piatto viene davanti a voi e non dietro quindi è più facile avere l'emozione del pezzo senza rimuovere il piatto e senza soprattutto prendere il piano e trasportarlo a mano e quindi bel lavoro per idea maker che rimane sempre un bel software spero che il video vi sia piaciuto spero di avervi dato una mano nell'impostazione del vostro profilo della vostra fantastical faway su 30 noi ci vediamo in un prossimo video e ciao